Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. Buongiorno, l'Italia può fare a meno del gas russo, una gran bella notizia per noi, una notizia che ha meritato un titolo su Politico e che è uscita dalla bocca del ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, alla vigilia del G7 sul clima di Torino. Voi ricordate, ricordiamo tutti, la corsa contro il tempo di due anni fa all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina sotto il governo Draghi, quando il volume dell'importazione di gas russo era al 43% del nostro fabbisogno e il rischio della chiusura dei rubinetti era da incubo. Secondo i dati ufficiali, scrive Politico, lo scorso anno gli approvvigionamenti della Russia hanno rappresentato meno del 5%, quindi dal 43% del 2022 a meno 5% del 2023. Abbiamo diversificato, abbiamo varie fonti, abbiamo i terminali di regassificazione, quindi abbiamo un'offerta sufficiente per rilassarci, ha detto ancora Pichetto Fratin. E quindi ora nessuna remora nello stringere la vita delle sanzioni contro Mosca, sanzioni che fino a ora si sono ben guardate dal toccare, dallo sfiorare il discorso del gas. Per il resto del servizio, poi politico, agganciandosi al vertice climatico di Torino, fa il punto sul nostro stato dell'arte. Le questioni chiave in discussione sono infatti la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico con particolare attenzione alla collaborazione con i paesi africani al famoso Piano Mattei. A Torino infatti c'erano i delegati di Algeria, Kenya, Unione Africana. L'Italia, ricorda la quotata rivista geopolitica statunitense, si sta organizzando per diventare un hub di transito energetico fra Africa ed Europa. Un vertice importante a guida italiana, anche se sempre politico che scrive, da quando la Meloni è salita al potere l'Italia ha ripetutamente votato contro, ossia astenuta, dalle votazioni sulle questioni ambientali della UE, come le norme sugli imballaggi e l'eliminazione graduale dei motori a scoppio entro il 2035. Gli ambientalisti sostengono che il nostro governo è disinteressato al cambiamento climatico, nonostante i ripetuti eventi estremi che si sono abbattuti ultimamente sulla penisola, dalla siccità alla perdita dei ghiacciai alle inondazioni. Risponde Picchetto Fratin che la questione dei motori a scoppio è miope e non considera i progressi dei carburanti puliti come idrogeno e biocombustibili, il che significherebbe che l'elettricità non è l'unica forma di energia pulita. L'obiettivo di questo governo, ha detto ancora il responsabile dell'ambiente, è quello di generare quasi due terzi della nostra elettricità entro il 2030 da fonti rinnovabili e tra l'altro saremo i primi in Europa a chiudere tutte le centrali a carbone, non fosse stato che per l'arresto dovuto proprio al nodo del gas russo. Sempre sul gas, questo è il titolo dell'edizione ucraina della Pravda, ovvero l'Italia è pronta a sostenere le sanzioni contro il gas russo, che è quello che dicevamo. Il governo italiano ha dichiarato che il paese non è più interessato al gas russo, scrive il lancio d'agenzia e non si opporrà alla proposta di un pacchetto di sanzioni europee attualmente all'esame della Commissione. L'articolo fornisce poi le stesse informazioni che vi ho già citato sui dati di oggi rispetto a quelli del 2022, spiegando la ragione per cui noi oggi ci sentiamo rilassati. I limiti di questo quattordicesimo pacchetto di sanzioni da quando è cominciata l'invasione dell'Ucraina, secondo le informazioni raccolte dalla Pravda, dovrebbero essere applicati alla flotta ombra di petroliere che continuano a esportare petrolio russo nonostante le sanzioni. E intanto il bollettino della IEFA, che è l'Istituto Internazionale di Analisi Economica e Finanziaria sull'Energia, afferma che l'eccessiva dipendenza dell'Italia dall'energia elettrica alimentata dal gas, rallenta lo sviluppo delle energie rinnovabili. L'Italia, nonostante i risultati ottenuti di cui sopra, ancora non ha un piano preciso per uscire dall'utilizzo del gas per produrre energia e questo quindi non apre la strada a una vera crescita delle rinnovabili paragonabile a quella dei nostri vicini europei. Il nostro mix elettrico, sempre secondo la IEFA, presenta tuttora uno schema confuso senza alcuna forma di energia chiaramente dominante. Ancora alcuni degli impianti di gas italiani ricevono sussidi statali che li mantengono artificialmente redditizi e quindi distorce la loro uscita dal mercato basata sui fondamentali puri. E ultimo, ma non meno importante, stiamo dando un cattivo esempio ad altri paesi dipendenti dal gas come Malta, Irlanda, Paesi Bassi e Grecia. L'Italia oggi è il più grande produttore di energia elettrica a gas dell'Unione, con una produzione pari a quelle di Germania e Spagna messe insieme con una quota di presenza del gas nel mix energetico di circa il 50%, quasi tre volte la media europea. Analisi complete e grafici sono linkati nella newsletter di oggi. Cambiando argomento, sicuramente la principale notizia che ci riguarda oggi sulla stampa estera è quella che riguarda la discesa in campo di Giorgia Meloni alle europee in prima persona. Come fece Renzi, anche se lei saggiamente non lo dice, un referendum interno tra gli elettori sulla propria tenuta, su quanto vale oggi Giorgia Meloni. Titola Euronews, l'italiana Giorgia Meloni si lancia sul ring per le elezioni europee. L'annuncio domenica da Pescara, dove la Premier ha ricordato le precedenti sfide europee, come quella di dieci anni fa nel 14, quando il suo partito non raggiunse nemmeno il quorum per entrare a quelle del 2019, quando arrivarono al 6,5%. Ora in Italia, ha detto ancora, siamo al 26,5%. Anche se a mio avviso, parlo del mio avviso, non di quello di Giorgia, anche se a mio avviso questi grandi salti ci dicono meglio di qualsiasi altro analista politico quanto possiamo essere volubili, quanto possiamo essere lunatici noi elettori italiani quando andiamo alle urne. Sempre nel 2014, per dire, a quelle elezioni dove Fratelli d'Italia non arrivò nemmeno alla soglia, Renzi si attestò intorno al 40%. Quello stesso Renzi che oggi, dieci anni dopo, pensa al traino di Maggi e della Bolini. Euronews, tornando a quello che scrive l'articolo, ricorda poi, in questo primo comizio elettorale, la Meloni si è attribuita il merito degli accordi con Egitto e Tunisia per la gestione dei migranti e ha attaccato la sinistra che minaccia di cacciare Edirama dai socialisti perché ha osato mettersi a disposizione del nostro governo di centrodestra. Edirama è il premier albanese. Non sono poi mancate le critiche all'Europa dei burocrati chiusi in un palazzo di vetro? Ecco che ritorna la Meloni da combattimento con l'appello a legiferare un po' di meno sul futuro verde e a lasciare che la ricerca, le imprese e il mercato facciano il loro corso. A differenza che nel PD nessuno le ha contestato la scelta di mettere la sua faccia e il suo nome, ben sapendo che è una candidatura fasulla che al Parlamento europeo non entrerà nonostante verrà eletta. Del resto, come Berlusconi, che inaugurò questa tendenza di personalizzare il partito, del suo partito lei è madre e padrona. Se credete ancora in me, ha detto ieri lei a Pescara, sulla scheda scrivete semplicemente Giorgia perché sono sempre e sarò una di voi. Se non è il lancio di un referendum questo, visto che certamente nonostante i milioni di Giorgia a Strasburgo lei non ci andrà, ditemi voi cos'è. E fascisti o non fascisti, la notizia che è stata ripresa un po' da tutta la più importante stampa estera è quella che il Washington Post titola decine in Italia, decine di persone in Italia, fanno il saluto fascista nell'anniversario della esecuzione di Mussolini. Dopo il 25 aprile, lo ricordate, Mussolini fu fermato dai particiani a Dongo, vicino alla frontiera con la Svizzera, mentre cercava di riparare all'estero. Era il 27 di aprile e con lui viaggiava l'amante Clara Petacci. I due furono uccisi il giorno successivo a colpi di arma da fuoco e poi appesi in testa in giù a Piazzale Loreto. Ed è stato sabato e domenica che i gruppi di nostalgici hanno sfilato nelle località Teatro della Cattura, sul lago di Como, tendendo il braccio e cantando canzoni fasciste. Il Washington Post, che per inciso scrive che il 25 aprile l'Italia fu liberata dagli alleati senza nemmeno citare la resistenza, il Washington Post annota come la data sia coincisa con la discesa in campo della Meloni alle europee. Meloni che negli ultimi anni comunque ha fatto di tutto per allontanare la sua immagine da quella del fascismo. A chiudere, torna a regolare con l'inizio della stagione balneare, il divieto di bicchini a passeggio per le strade delle località turistiche. Queste misure tornano a sorprendere i giornali stranieri, come TZ dalla Germania che titola Regola dura sull'Adriatico. La popolare località balneare italiana impone il divieto di bichini. A sto giro la località è Lignano, tanto prima o poi lo fanno in tantissimi entro l'inizio dell'estate. Però sto giro, come dicevo, è Lignano, dove fino allo scorso anno le regole sull'abbigliamento erano lasciate al buon senso dei villeggianti, ma evidentemente non era bastato. Quindi niente torsi nudi e niente due pezzi fuori dalle spiagge e dal lungomare. Pare che in passato, al di là del decoro, che tanto poi non si scandalizza più nessuno, pare che la distrazione per osservare certi fisici a passeggio abbia creato più di un incidente che poi ci si può distrarre dalla guida sia per apprezzare che per denigrare chi sta passando sei minuto. Quindi magliette e pantaloni d'obbligo dal 5 di maggio. La prima volta vi beccate 25 euro, se trasgredite, dalla seconda in poi 500. Che poi, se ci spostiamo un po' più in là, a Monfalcone, troveremo invece il divieto di fare il bagno vestiti o col burchina, come usa fra le donne islamiche. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Io qui vi saluto. Domani di nuovo uno stop, è il primo maggio, naturalmente lo si festeggia anche al ristretto italiano, a risentirci quindi a giovedì mattina, 2 maggio. Ristretto italiano di Ruggero Po